Sono Claudio Longhi, direttore del Piccolo Teatro di Milano. Sono convinto che l'incontro tra teatro e carcere, oltre che essere iscritto in qualche modo nel DNA del teatro, ricordo che uno dei più antichi testi teatrali che ci sono pervenuti dall'antica Grecia è il Prometeo Incatenato, che in qualche modo mette al centro della vicenda una situazione per così dire carceraria. Sono convinto, dicevo, che l'incontro tra teatro e carcere sia un incontro fondamentale per entrambe queste esperienze. L'incontro con il carcere è determinante per lo sviluppo di un immaginario artistico e per l'affinamento delle pratiche artistiche. Penso per esempio a un'esperienza straordinaria come quella del Teatro della Fortezza, che muove da una situazione carceraria per andare oltre in una prospettiva artistica. Ma il teatro è anche fondamentale nella vita del carcere, credo, come luogo di formazione a un vivere in comune, a un essere polis, a un essere città, a un essere comunità, consentendo alle persone di recuperare, reintegrare il proprio posto, il proprio ruolo, la propria funzione all'interno di una comunità. Non per nulla il teatro ha sempre avuto un ruolo fondamentale nelle pratiche pedagogiche occidentali, a partire dalla razza studiorum dei gesuiti, e continua tutt'oggi ad essere luogo di fondazione e di formazione dell'uomo. Nel solco di queste riflessioni sul rapporto teatro-carcere, credo che un incontro come quello di stamane sia un incontro fondamentale per consentire lo sviluppo della rete, per far sì che soggetti diversi, con esperienze diverse, con pratiche diverse, possano incontrarsi e annodare dei figli, annodare dei dialoghi. Credo che il confronto con l'altro, la curiosità, l'aprirsi ad altre modalità di lavoro, ad altri orizzonti, sia fondamentale per far crescere forte l'esperienza.